Andiamo da Giuseppe Zannone invece adesso. Poi c'è il film o no? No, poi subito dopo c'è il film, ci sono loro, ci sono Gigi e Ross, li vedo, sì, sono pronti. Giuseppe Zannone, no, no, aspetta. Allora, prima? Qua c'è. No, c'è Giuseppe Zannone. In esclusiva mondiale, tre Zannoni al presto di uno. Addirittura? Sì, abbiamo i fratelli Zannone, come al circo! Buonasera. E' una soluzione per ognuno di loro. Poi ovviamente chiamandoci, noi tranquillamente gli diamo tutte le informazioni per poter poi spiegare in che modo e qual è la soluzione più giusta. Abbiamo messo i nostri numeri di sovraimpressione che sempre gratuitamente possono chiamarci e effettuare i pericari. Vengono lì gratuitamente, fanno il test e poi voi personalizzate. La cosa incredibile è che noi abbiamo due clienti stasera di Zannone, chiaramente non l'hanno mai detto, ma Gigi e Ross sono clienti da anni di Zannone, infatti loro sono calvi. Confermo, confermo. Venite, venite, venite. Gigi e Ross! Vasquale Salma! Buonasera. Non tirare i capelli. Salve a tutti. Ciao ragazzi, buonasera. Ma che figo sei. Ma che belli. Grazie, grazie. Ma che belli. Ma questo ha pinto di salutarci, già ci siamo salutati ragazzi. Nella serie, signori, gente che lavora, perché Gigi e Ross, vai avete riempito Rai2, cioè previsione del tempo. Ci manca solo Medicina 33. Medicina 33. Esatto, perché avete fatto tu, tu, anche questo. A Sanremo eravate voi. No, no, no. Vogliamo salutare un attimo Giuseppe perché poi ci dà il microfono? Allora Giuseppe, perché ti hanno interrotto però. Mi hanno solo interrotto. Ma no, ho fatto una pubblicità, scorda. Ho rivelato che mi ha risoluto i clienti. Ma benissimo, ma benissimo. Anzi, volevo salutare a Nadia Toffia che si è prestata in questi giorni, si è dichiarata in questi giorni dove si è sottoposta a chemioterapie e ha avuto una soluzione momentanea e l'ha risolta e sta superando con molta disinvoltura quello che possa essere il problema avuto in questi giorni. Grazie a Giuseppe Gattoni. La salutiamo tutti insieme. Grazie.